Sto parlando di uno dei cani più belli del mondo, paparazzato come un vivo e si nutre solo di hot dogs. You are the baddest girl in the United States. Shhh, shhh, shhh. Sto parlando a te. Non passo. Sto facendo il video. Shhh, shhh. Sto da Donald Trump e poi le foto con i fan. Mi viene regalato nel video. Shhh, shhh. Ha vinto il prestigioso Westminster Dog Show. Arrivava dalla California e ha conquistato il New York. Shhh, shhh. Shhh, shhh. La grande nela hanno fatto a gara per ospitarla in studio. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Amma guardare la tv e adora your dog di pollo. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. аarri mega, Kira Val 49, Shhh, shhh. Dora vediamo cosa ci riserva. Dora. Lquiera.